30, 60, 1, 50, 100, 200, il Papa del Antonio, il Pablo di Raffaele E adesso presentiamo da Virtus Segaprito, Bologna Con il numero 0, Freak Games Con il numero 1, Rubenzo Gelli Con il numero 6, Alessandro. Con il numero 8, Filippo. Con il numero 9, Stefano. Con il numero 11, Giampaolo. Con il numero 25, Devin. Con il numero 32, Filippo. Con il numero 44, Giavi. Con il numero 35, Stefano. Con il numero 44, Filos. Con il numero 45, Giulia. Il capo generatore, Alexander. Adesso, tutti in piedi per ascoltare l'inno nazionale della Repubblica Italiana. La 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 Repubblica Italiana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.